Sono oltre 120 i sindaci della provincia di Cosenza che hanno aderito alla protesta promossa dal primo cittadino di Acqua Formosa, Giovanni Manoccio, che è stata portata anche a Roma davanti alla sede del Parlamento. Una vera insubordinazione che punta a difendere territorio e comunità. I sindaci hanno voluto incontrare il prefetto per parlare delle difficoltà nell'applicazione della TARES e le criticità provocate dal patto di stabilità, con la conseguente impossibilità degli enti di approvare l'esercizio finanziario. Si chiede un rinvio della tassa sui rifiuti e l'eliminazione del patto di stabilità per i comuni sotto i 5.000 abitanti, inoltre la possibilità di rideterminare la quota dei mutui, visto che molte amministrazioni rischiano di perdere i finanziamenti concessi dalla Regione Calabria. Siamo in una sorta di abbandono dello Stato e quando viene meno lo Stato in Calabria io credo che possono solo aumentare fenomeni degenerativi. Quando in una famiglia da un anno all'altro si chiede il raddoppio della tassazione, quando nella stessa famiglia ci sono disoccupati e precari, io credo che si metta in discussione anche l'esistenza stessa di quella famiglia. Quindi noi oggi siamo qui per dire a sua eccellenza il prefetto che la Calabria, la provincia di Cosenza soffre, gli enti locali soffrono e che ci deve essere un altro modo di rappresentare le esigenze dei cittadini, non solo quello della tassazione. Se significa mettere in atto azioni per l'autonomia, queste devono essere congordate con i sindaci, con i consigli comunali, perché alla fine noi siamo le sendinelle dei nostri territori e dobbiamo avere la possibilità di decidere come gestire i nostri comuni e le economie dei nostri cittadini. Presente anche il deputato PD e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno. L'Anci sta facendo una grande battaglia. Il ministro del Rio verrà in Calabria il 16. Vogliamo fare una battaglia che restituisca la possibilità ai comuni, soprattutto ai piccoli comuni, di dare le risposte ai cittadini che in questo momento non hanno. La Regione ha concluso i due giorni di confronto con il partenariato istituzionale ed economico-sociale sugli obiettivi della nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020. Quattro sono stati tavoli di discussione che si sono ottenuti nelle giornate di ieri, giovedì 27 giugno, e di oggi a Catanzaro, nella sede della Comalca, il Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria. I quattro gruppi tecnici hanno affrontato altrettanti temi individuati, come prioritari dai documenti elaborati in sede comunitaria e nazionale, lavoro e competitività, ambiente, qualità della vita e inclusione sociale, istruzione e formazione. Il confronto è stato coordinato da Paola Rizzo, autorità di gestione del Port Calabria FESD 2007-2013. Puntiamo all'elaborazione di un programma, ha affermato l'assessore regionale alla programmazione nazionale comunitaria Mancini, che sia il più operativo e concreto possibile, identificando poche priorità che riescano ad attrarre risorse consistenti in modo da far crescere la Calabria nel panorama nazionale e comunitario. Per vincere questa sfida è centrale la condivisione con il partenariato, ha sottolineato l'assessore. L'assessore regionale ai trasporti Luigi Fedele all'indomani dell'incontro romano con i vertici del Ministero dell'Infrastruttura dei Trasporti a Resono Tocchesi e sulla tratta Villa San Giovanni Messina e su quella a Reggio Calabria Messina il servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri continuerà senza subire alcun disagio. Contattato insieme al collega siciliano Antonino Bartolotta, direttamente dagli uffici ministeriali preposti, ha dichiarato l'assessore Fedele, ho ricevuto conferma dell'avvenuto accordo tra il Ministero e la società individuata per espletare l'indispensabile servizio di trasporto tra le città di Reggio e di Messina. La società quindi garantirà la continuità del servizio senza interruzioni. Martedì prossimo, 2 luglio, infatti, è stata convocata un'ulteriore riunione del Ministero per definire gli ultimi dettagli tecnici. La Ragioneria Generale della Regione ha effettuato nel corso di quest'ultima settimana nei primi pagamenti ai comuni calabresi per gli interventi di restauro dei centri storici previsti dalla delibera Cipe 89 del 2012. La Regione ha liquidato somme per oltre 4 milioni e mezzo di euro ai 16 enti municipali che hanno già ultimato i lavori. Beneficiari della prima tranche di finanziamenti sono 7 comuni del Regino, Delianova, Marina di Gioiosa Ionica, Melicucca, Melicucco, Varapodio, Villa San Giovanni, Cittanova, 3 del Catanzarese, Andali, San Sostane, Zagarise, 3 del Cosentino, Cerchiare di Calabria, Paludi, Terranova da Sibari, 2 del Crotonese, Santa Severini, Isola Capo Rizzuto, e uno del Vibonese, San Nicola da Crissa. I progetti integrati per la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione dei centri storici calabresi sono in tutto 170 per un importo complessivo di oltre 97 milioni di euro.